Già la Cassoda esplode una bomba posizionata nella notte davanti all'abitazione di un'aziana. Profughi, la petizione del quartiere San Vito si estende a tutta Bassano, forza Italia, i profughi potrebbero arrivare in altri quartieri. Ma alla raccolta firme si respira anche tensione, si infiamano le polemiche tra favorevoli e contrari. Bassanesi truffati online spendono per acquisti che però non arrivano, l'appello della polizia. Fate attenzione. Sciocca Fontaniva per la violenza subita da una cinquantenne, la vittima sottoposta ad un intervento chirurgico per le lesioni subite. Tradizione, prodotti tipici locali, in occasione della transumanza a Bressanvido, una forma gigante di formaggio in beneficenza. Buonasera a tutti voi telespettatori, apriamo il nostro telegiornale con un giallo a cassola. Nella notte i gnoti hanno fatto esplodere una bomba davanti all'abitazione di un'anziana. Una bomba ma grossa, grossa, spavento grande. Hai idea di chi può essere stato? No, non saprei proprio. Voto forte e ho chiamato Giannino, Giannino, mio figlio, Giannino. Un boato nella notte è ancora sconvolta. Iva Marino, 80 anni, residente in via Bodi a Cassola. A fatica ci racconta lo shock di ieri sera, quando attorno alle 22.30 i gnoti hanno raggiunto la sua abitazione. Hanno scavalcato il cancello, hanno posizionato in ordigno facendolo esplodere. Dalla deflagrazione i vetri della porta d'ingresso sono schizzati ovunque. Calcinacci staccati, si vede ancora il disastro provocato. E ora, più che mai, c'è molta paura. Tanta paura che adesso ho ancora più paura di prima perché non pensavo mai a quegli spaventi, che erano così grandi, che ho ancora da passarmi. Il figlio di Iva Marino, Raffaele Cinell, 47 anni, che abita vicino alla madre, stamattina a sport denuncia i carabinieri di Bassano e non riesce a capacitarsi del gesto. Io una cosa del genere non l'ho mai vista. 47 anni, mettere una bomba a ridosso di un'abitazione è un atto criminoso. Mette a rischio la salute dei cittadini, soprattutto di un'anziana che praticamente dovrebbe essere tutelata. Voi non avete nessunissime idee di che possa essere stato? No, 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 no. Non abbiamo nessuna idea. Di certo potrebbero venire in aiuto alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste all'esterno delle abitazioni vicine, che potrebbero aver ripreso l'arrivo e la fuga dei malviventi. E Cinell vuole lanciare un appello a tutti i cittadini. Lei diceva poco fa, siamo noi i primi che possiamo dare l'allarme, i primi che dobbiamo dare l'allarme se vediamo qualcosa che non funziona, qualche anomalia. Certo, io non voglio fare allarmismo nel mio territorio, ma bensì di guardarsi attorno a cosa può succedere. Quindi, dal mio punto di vista, se avete qualche sospetto o qualche indizio, segnalate agli inquirenti, alle forze dell'ordine, che per fortuna esiste questo ente che ci può dare una mano. E parliamo di sicurezza con il nostro ospite Stefano Monegato, consigliere comunale di Bassano. Buonasera, Monegato. Buonasera. Abbiamo visto questo fatto veramente incivile, però parliamo di sicurezza del Comune di Bassano, com'è la situazione? Penso che il Comune di Bassano ricalchi un po' l'andamento del Veneto, una zona abbastanza sicura, però la percezione della sicurezza nella gente è sempre in calo, nel senso che la gente non si sente più sicura a casa, si chiudono le porte, si mettono sistemi d'allarme, è sempre di più, perché la gente, anche con quello che vede in televisione, è sempre più preoccupata. E dalla sicurezza parliamo anche di profughi. Oggi dovevano essere consegnate in Comune le firme raccolte tra gli abitanti del quartiere San Vito, che chiedevano garanzie in vista dell'arrivo di profughi a Bassano. Ma le richieste di adesione sono state tali da aver reso necessaria una proroga. Doveva essere la giornata di consegna al sindaco delle firme raccolti al quartiere San Vito per chiedere modalità diverse di accoglienza per i profughi in arrivo a Bassano. Invece, nonostante siano state già raccolte qualche centinaio di firme in pochi giorni, l'appuntamento in municipio è stato rimandato. Abbiamo avuto parecchie e moltissime richieste anche da non residenti, quindi cittadini bassanesi, che vogliono sottoscrivere le stesse richieste. Per poterlo fare devo posticipare la consegna del documento. La partecipazione si allarga dunque a tutta la città e presto ci sarà una riunione dell'intercomitato con i presidenti di quartiere. Ma mentre a San Vito gli occhi rimangono puntati sulla palazzina dove sono previsti entro questo mese una ventina di arrivi, dopo le polemiche in Consiglio Comunale, gli animi si stanno surriscaldando anche per le vie e i locali del rione. Molti residenti che hanno sposato di darci un aiuto a andare dal vicino piuttosto che dalla signora che magari non potrebbe venire, si sono sentiti etichettare fascisti. Un papà, che è nostro consigliere, poi a scuola ha chiesto, ha detto venite a firmare, noi siamo lì, dava le informazioni e si è sentiti etichettare da un nonno che siamo dei fascisti, che dobbiamo solo vergognarci. La tensione è tale che alcuni residenti avrebbero preferito firmare scegliendo il momento in cui non si trovavano addosso sguardi indiscreti proprio per evitare discussioni. Eppure, ribadiscono al quartiere, la petizione non chiede che soluzioni di buon senso per un'accoglienza sostenibile e allo scopo di farsi ponte tra cittadini e istituzioni per evitare sgradevoli iniziative di senso opposto. Il consiglio di quartiere voleva fare da tramite, conciliante, invece in questo modo è solo etichettato come i fascisti e chi viene a firmare lo stesso, alla stessa maniera. Non è questo, perché stanno venendo cittadini indipendentemente dal partitocrazia. I tre cittadini sono anche volate parole grosse, ma le chiedo, è una questione politica o è semplice mala gestione dei profughi? La gestione dei profughi a livello nazionale è disastrosa, lo dicono sindaci di tutte le parti politiche. Io credo che in un paese civile i profughi che scappano da guerra e da persecuzioni devono essere accolti. Però se questi rappresentano il 5% degli arrivi in Italia, la dice lunga, perché invece di 200 mila persone, se dovessimo accogliere ne dico 10 mila, io penso che dovremmo assolutamente andare incontro alle esigenze di queste persone. in Consiglio Comunale io avevo chiesto sempre sul discorso del buonsenso che venissero portati a Bassano, se possibile, famiglie o donne con bambini, che sono i primi a essere colpiti da queste persecuzioni e da queste guerre. La maggioranza non ha ritenuto doveroso votarlo, e ne abbiamo preso atto, mi sembra assolutamente illogico, da parte della maggioranza, come illogica è la negazione della nostra richiesta, che queste persone che arriveranno a Bassano vengano controllate, perché la cooperativa non è di Bassano del Grappa, è di Quinto Vicentino. Noi abbiamo una cooperativa che opera bene sul territorio, e questa cooperativa da Quinto Vicentino ha già avuto problemi in altri comuni della provincia, loro probabilmente il venerdì sera alle 5 staccano e rientreranno il lunedì. Mi sapete dire come verranno controllati questi 25 ragazzotti che arriveranno in due appartamenti a San Vito dal venerdì sera a lunedì mattina? Questo crea preoccupazione nella gente, e la maggioranza sembra che si assorda queste richieste che io penso che siano logiche. Quindi è preoccupata anche lei come persona, perché vive vicino proprio alla palazzina dove dovrebbero essere ospitati questi profughi? Sì, probabilmente sono anche il consigliere che abita più vicino, personalmente per la mia persona non ho paura, però anch'io ho una moglie o una figlia e ho soprattutto amici e persone che abitano in zona e sono preoccupati, magari non succederà niente, però mettere 25 persone in due piccoli appartamenti perché non sono grandi i locali. Anche questo sarà da monitorare assolutamente perché io non credo che questi appartamenti avranno legibilità per 25 persone. Quindi cercando di disinnescare questa bomba, diciamo, probabilmente anche se ne andassero 10-12 già il problema rientrerebbe in alve più consoni. E la petizione sui profughi del quartiere San Vito si allarga anche al resto della città come il timore che a Bassano possano esserci altri arrivi in vista. L'amministrazione attuale dovrebbe imporsi un po' di più con la prefettura, quello sì. Se è vero che esistono delle gerarchie che ovviamente non possono essere superate, visto dai banchi dell'opposizione l'atteggiamento della maggioranza nel trattare la questione profughi poteva essere più deciso. Ma se per ora a San Vito i profughi devono ancora arrivare, lo sguardo è già diretto a ciò che potrebbe accadere nel resto della città. La vera preoccupazione dei cittadini bassanesi sta nel fatto che questa mancanza di dialogo tra la prefettura e la nostra amministrazione porta diciamo a una preoccupazione su questo fenomeno. Il vero è che il sindaco, l'amministrazione, poco può fare sulla volontà del prefetto che ha carta bianca sull'arrivo e la gestione dei profughi. Però un comune che è sempre stato collaborativo sarebbe anche opportuno parlarne prima di attuare delle politiche così forti. Comunque non sarebbe infondata la preoccupazione dei residenti di altri quartieri bassanesi che hanno allargato al resto della città il bacino della petizione partita da San Vito. C'è la possibilità che in qualsiasi quartiere si veda a trovare dei profughi perché se così è stato gestito con il quartiere San Vito potrebbe essere così in qualsiasi altro quartiere. Quindi il comune è stato troppo tenero. Voi tra l'altro avete presentato anche dell'interpellanza in merito. Sì, noi abbiamo sempre sollecitato l'amministrazione. A ottobre dell'anno scorso abbiamo presentato un'interpellanza sui profughi. A luglio abbiamo cercato di bloccare l'arrivo potenziale di 150-200 profughi nel casame Fincato Montegrappa che aveva impenserito sinceramente anche il sindaco della maggioranza e che ci sono venuti dietro su questa mozione che avevamo presentato pur cambiando qualcosina, però in linea di massima l'avevano approvata. Adesso con questi ultimi emendamenti che avevamo presentato la settimana scorsa in Consiglio Comunale c'è stata questa nuova chiusura da parte della maggioranza. Credo che il sindaco di Bassano dovrebbe andare a trattare in maniera molto più cogente con il prefetto come ha fatto il sindaco di Schio. A Schio, ricordo, dovevano arrivare 230 profughi. Il sindaco è andato a parlare, a trattare. Hanno trattato per 50 persone e alla fine ne sono arrivate 40. Io credo che questo sia il modo di fare corretta e sana amministrazione per i propri cittadini. E parliamo di un'altra problematica, ma cambiamo argomento e parliamo di truffe web che hanno portato la denuncia di 10 persone. 10 truffe via web, altrettante denunce nel giro di neanche 15 giorni, a persone arcinotte, alle forze dell'ordine, sparse un po' in tutta Italia. Settembre caldo per gli agenti del commissariato di polizia di Bassano che sono riusciti a risalire gli autori dei reati attraverso internet. Stesso il modus operandi, inserzione sul medesimo sito online di materiale in vendita a prezzi super vantaggiosi. Primo contatto telefonico tra vittima e truffatore, pagamento e merce mai consegnata. Proprio dal commissariato arriva l'ennesimo appello ai cittadini di prestare massima attenzione quando si effettuano acquisti via telematica. La cosa più semplice da fare, consigliano, è digitare il nome del venditore su un qualsiasi motore di ricerca. Quasi sempre emerge che corrisponde a quello di persona ben nota agli inquirenti e soprattutto occhio ai prezzi stracciati. Di sicuro è una bufala. E parliamo di sanità. Monegato, Bassano c'è preoccupazione per il ridisegno della sanità e si dice che bisognerebbe togliere la direzione. Cosa ne pensa? Quando si tocca la sanità tutti i nervi diventano tesi da parte di tutti. Questo è un problema susseguente alla mancanza della provincia di Bassano come è stato per il Tribunale. Io credo che sia assolutamente da perseguire questa possibile sanità della pedemontana Veneta perché manterebbe sicuramente i servizi. Da quello che ci dicono i servizi a Bassano dovrebbero rimanere. Abbiamo delle eccellenze che sarebbero veramente un delitto perdere. Io sono uscito 20 giorni fa da un'operazione in maniera egregia del nostro ospedale quindi non posso che parlarne bene. Noi ci lamentiamo sempre però sinceramente la sanità Veneta è tra le migliori non solo in Italia ma addirittura in Europa. Quindi voto sì alla pedemontana. Assolutamente sì. E parliamo ora di un'altra notizia di cronaca di due feriti. Il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio attorno alle 16 lungo strada Marchesane a Bassano. Per cause al vaglio dei carabinieri i due auto, una Peugeot elettrica e una Fiat Punto sono entrate in collisione proprio davanti al distributore di benzina che si trova vicino alla chiesa. Nello scontro i due conducenti hanno riportato qualche voto sono stati condotti al San Bassiano per accertamenti. Ed ora parliamo di computer. I computer possono smarire i dati ma non è tutto perduto. Nella maggioranza dei casi questi possono essere recuperati. Se ne è discusso in un convegno con esperti del settore a Bassano. Il tema della sicurezza dei dati è un tema oggi che va affrontato come priorità. Ecco che una giornata come questa formativa per le aziende rende anche tutti più consapevoli di qualche cosa che ritenevamo un dettaglio nella nostra vita privata, pubblica, lavorativa. Inserire dati dentro un computer non significa averli messi dentro una cassaforte per i più svariati motivi. Quanto pensiamo riposi al sicuro dentro un computer può andare perso. Gli harddisk e gli strumenti di memorizzazione sono soggetti a sbalzi di credenzione ma ancora di più quelli che vengono portati in giro sui portatili oppure dischi esterni possono cadere, cascare, quindi essere oggetto di un colpo violento oppure di un'oscillazione elettronica per cui i dati si possono perdere. Non tutto però è perduto. Nell'80-85% dei casi si riescono a recuperare i dati. Si tratti di fotografie di famiglia, di documenti di aziende private o della pubblica amministrazione. Tutti sono soggetti a perdere i dati. Qualche avvocato abbiamo recuperato i dati che in poche ore doveva presentarli in udienza e quindi abbiamo fatto le corse lavorando anche di notte per poter far trovare il giorno dopo alle 10 del mattino in tribunale i dati. Parliamo della macchina comunale di Bassano. Voi avevate promesso di snellirla? Avevo promesso la maggioranza di snellirla a parole. Vediamo tanti proclami nei fatti e sinceramente dopo un anno e mezzo abbiamo visto ben poco. Credo che non sia facilissimo però io auspico che dalla maggioranza vengano più fatti e meno parole. E parliamo ora, andiamo a Bressanvido. Parliamo di una forma gigante di formaggio in occasione della transumanza e il ricavato della vendita. È in beneficenza? La forma pesava circa 1040 kg ed è il derivato di 100.000 litri di latte che una squadra di 14 persone, cappeggiata dal signor Claudio Dal Ponte, il nostro Mastro Casaro, ha impiegato più di 6 ore per fare. Dopo 65 giorni la possiamo presentare, l'abbiamo presentata, mi sembra con risultati soddisfacenti. Già, quella che vedete è la forma gigante di formaggio, due metri di diametro che ieri a Bressanvido ha coinciso con la 17esima festa della transumanza, un evento che ogni anno ripropone i prodotti tipici delle nostre terre, a cominciare dai formaggi, prodotti dei soci della cooperativa Latteria Vicentine, l'ultimo nato, l'oro di Malga, che con il loro lavoro tengono alta l'economia del territorio. Questa festa ha un'importanza fondamentale perché esprime proprio questo radicamento nel territorio della nostra cooperativa che appunto chi acquista i prodotti di Latteria Vicentine sa che tutto il ricavato effettivamente rimane sul territorio. I nostri soci vivono qua, 400 famiglie più dipendenti, quindi si parla di un indotto di circa 1000 famiglie. E anche quest'anno la forma gigante ha avuto scopo benefico perché il ricavato della vendita è stato devoluto all'associazione di volontariato RTS a sostegno dei bimbi affetti dalla sindrome di Rubinstein-Taibi e al progetto Le Chiavi di Casa, che si occupa di residenzialità per persone disabili. Shock a Fontaniva, dove una cinquantenne ha denunciato di essere stata violentata brutalmente da un compaesano. Gli ha aperto la porta, mai avrebbe immaginato che quell'uomo, suo compaesano, si sarebbe scaraventato su di lei violentandola e procurando le serie lesioni. Un episodio che ha sconvolto la comunità di Fontaniva, dove la vicenda si sarebbe verificata una decina di giorni fa, ma solo oggi è venuta alla luce. La vittima, una cinquantenne, che nonostante il trauma ha trovato il coraggio di denunciare i carabinieri, lo stupro barbaro avvenuto nella sua abitazione. Forse il bruto, residente in paese, sapeva che lei in quel momento si trovava in casa da sola. La guzzina avrebbe suonato il campanello e non appena la sua vittima ha aperto la porta, l'avrebbe gettata a terra per poi trascinarla in camera da letto. Inutile ogni tentativo di difesa da parte della cinquantenne, sopraffatta dalla forza del suo aggressore. Non si esclude la presenza di un complice rimasto fuori dal cancello a fare da palo, tutto pianificato nei minimi dettagli. Minuti eterni in cui per la donna si è scatenato l'inferno. Quando l'uomo se n'è andato, lei sarebbe rimasta da sola tutta la notte, completamente sotto shock. Solo la mattina successiva, sconvolta dal dolore delle ferite riportate a seguito della violenza, ha chiamato il 118. È stata ricoverata in ospedale a Cittadella, sottoposta a un delicato intervento chirurgico per le lesioni subite. Ora i carabinieri della compagnia della città murata sono alla ricerca dei due delinquenti e in paese cresce la tensione. Trovate tre galline decapitate, ceri e un pugnale piantato nel terreno. Il tutto è stato trovato sabato in un piopeto di via Brenta a San Giorgio delle Pertiche, dietro un vecchio capannone. La scena aveva tutto l'aspetto di un rito raccapricciante che si sarebbe svolto mercoledì sera. Dell'episodio sono stati informati il sindaco e i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo. Monegato, allora lei è anche presidente comunale degli artigiani, ma ci dica com'è la situazione dell'imprenditoria bastanese. Ci sono delle situazioni a macchia di leopardo, sono le aziende che lavorano con l'estero che stanno andando anche abbastanza bene. Il mercato locale è ancora, non dico fermo, ma molto molto rallentato e a livello romano non ci sono grandi indicazioni, ci sono dei grandi proclami, però le tassazioni sono sempre elevate, l'IVA è sempre in aumento e la gente, anche se i soldi non li spende, oltretutto il settore immobiliare è stato molto penalizzato in questi anni, che era un po' il fulcro della nostra economia locale. Si spera anche che ci sia una ripresa della Germania come è stato in questi ultimi mesi, il caro sul quale siamo grandemente attaccati noi e quindi l'auspicio di tutti è che diminuiscono ancora i disoccupati e soprattutto i disoccupati giovani che fanno grossa fatica a trovare lavoro. E parliamo di economia e sanità con il nostro prossimo servizio. In tempi critici, in cui le famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese, in cui anche in materia sanitaria un semplice controllo o una semplice medicazione possono trasformarsi in un problema per l'economia domestica, apre a Cittadella, in via dell'artigianato, una realtà che si occupa di cure dentali. Si avvale di otto ambulatori con strumentazione all'avanguardia, medici qualificati e soprattutto si caratterizza per le tariffe agevolate. Questa è una politica che è appunto partita già dieci anni fa, dove comunque c'era molta attenzione per applicare queste tariffe estremamente modiche rispetto a come eravamo abituati verso gli studi odontoiatrici. A maggior ragione in questa fase, in questo momento storico, in cui c'è assolutamente necessità, perché comunque le cure sono primarie, quindi a livello dei bambini, che noi poniamo particolare attenzione anche i bambini, con la prevenzione, carie zero, eccetera, ma agli adulti, alle persone di qualsiasi tipo, agli anziani, per cui è fondamentale, perché comunque determina la qualità della vita. In chiusura di telegiornale, le faccio la domanda a diritto, i vostri prossimi impegni in comune? Diciamo che l'amministrazione, in maggioranza, soprattutto secondo noi manca un po' di concretezza. Vediamo tanti proclami, qualche idea, però nei fatti non vediamo dei grossi cambiamenti in amministrazione. Probabilmente sono un po' autoreferenziali, dovrebbero affidarsi un po' di più anche alle minoranze. Ci sono delle persone che hanno grosse competenze e conoscenze, e fino adesso le minoranze sono state collaborative, aperte, sempre per il bene della città, perché i 24 consiglieri in consiglio comunale rappresentano tutti i 44 mila abitanti di Bassano e sono tutti lì per fare il bene. Io chiedo che la maggioranza non faccia muro contro certe esigenze espresse da parte delle minoranze, perché, ripeto, spesso vengono fatte proprie, proprio dal sindaco, dalla giunta, magari in termini successivi. Quindi noi siamo sempre disposti a lavorare per bene la città e aspettiamo questo da parte dell'amministrazione. Grazie per essere stato qui con noi questa sera. Grazie a lei. E invece vi ricordo, questa sera è la grande cinema di Rete Veneta con il film Un marito per Cinzia, una divertente commedia con Sofie Loren e Carrie Grant. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Grazie a tutti.